Bambini, il vostro vecchio caro amico Crusty ha dovuto fare alcuni tagli per via di un'enorme multa a carico della rete TV. Yeah! È una cosa brutta! Comunque non possiamo permetterci di pagare agli attori delle voci di Grattachecca e Fichetto, quindi le voci le farò io. Manda! Adesso sono un gatto che cammina per la strada dondolando le braccia. Guarda, una donna fatta di dinamite! Aspetta, non lo so ancora. Ti va di baciarci un po'? Badaboom! Ecco che arriva il topo. Come si chiama? Sono stato io a farlo! Ma non basta! E allora guarda, ecco cosa ti succede a... non lo so. Fare lo scemo con mia moglie! E continua! Maledetto Brockman! Ci sono solo due regole in televisione! Niente parolacce e non tirarlo fuori! Non ci vuole Einstein per capirlo! Kent, possiamo parlare? Non è che mi licenziate, vero? No, no. La rete resta accanto ai suoi giornalisti. Di un po', cos'è quella polvere nel tuo caffè? E cocaina? Oh, è splenda! Risparmiami il gergo, razza di pusher! Sei licenziato! La tua illustre carriera è finita! Grazie a tutti! Non era uno più puro!